La nostra capacità predittiva è molto migliorata, assolutamente non comparabile rispetto a quella del 66, per gli eventi classici. Oggi assistiamo anche a altri tipi di eventi e ci stiamo attrezzando per cercare di gestire e prevenire anche quelli lì, però dobbiamo lavorare. A distanza di 56 anni dall'alluvione di Firenze, la Regione Toscana fa il quadro sulla situazione della sicurezza del fiume Arno, un punto sui lavori quest'anno particolarmente importanti alla luce di un contesto fatto di eventi climatici eccezionali e violenti che si verificano sempre con maggior frequenza. In questo momento noi abbiamo 600 milioni come cifra di risorse che a varie fasi, o sulla base di progetti che devono naturalmente essere completati e poi avviati, o di progetti esecutivi che sono stati approvati e manca solo la definizione della gara, o di lavori in corso. In questo momento stiamo attivando attraverso la nostra direzione di difesa del suolo, diretta da Giovanni Massini, che sta lavorando molto bene. Essenziale dunque il lavoro sulla prevenzione a tutti i livelli. Sono tre le linee di azione. La prima è quella di prevenzione, ma prevenire anche in termini di utilizzo del territorio, quindi una buona normazione e costruire dove si può costruire. La seconda misura sono tutte quelle azioni cosiddette non strutturali, ma che servono a definire meglio le azioni da fare durante gli eventi emergenziali. Invece la parte più strutturale, e questa è la terza azione, è quella di realizzazione delle opere per la riduzione del rischio idraulico. Attualmente i principali interventi in previsione in corso d'opero di recente realizzazione lungo l'asta dell'Arno sono diversi e buona parte si concentrano sul territorio del Val d'Arno. Per quello che è l'innalzamento della diga di Levano, stiamo procedendo nelle dimensioni di pizzicone 1 e pizzicone 2 su Figline Val d'Arno per quelle due casse di espansione, a cui poi se ne aggiungeranno altre complessivamente ci troveremo ad avere una bella capacità di anteporre l'Arno al passaggio sotto il Ponte Vecchio, che sappiamo non può essere oltre i 3.200 metri cubi d'acqua al secondo. Con questi interventi sarà possibile arrivare a quella dimensione.